Ciao a PetTest.it, c'è un'avvertenza per quanto riguarda l'effetto stroboscopico, strobing effect all'inizio degli episodi di zero calcare, strappare lungo i bordi. Li vedremo dal 17 novembre su Netflix, ma abbiamo visto in anteprima dove, alla festa del cinema di Roma, edizione quale, 16, i primi due episodi, c'è un'avvertenza per quanto riguarda lo strobing effect, in realtà non è l'effetto più pericoloso, l'effetto più pericoloso è quello di una parlantina a 300 km orari, peggio della voce narrante di The French Dispatch, l'ultimo abbastanza insignificante film di Wes Anderson, e quindi l'avvertenza principale che avrebbero dovuto fare per quelli un po' duri di orecchie e anche di comprendogno, come il sottoscritto. In realtà è molto divertente, è parlato a 3400 km orari, abbiamo di nuovo visto Zero Calcare diventare animazione, ovviamente è un'operazione che nasce da Rebibbia Quarantine, la serie animata molto divertente che si vedeva a puntate su Propaganda Live, realizzata da Zero Calcare, questa è una versione anche con un po' più di budget, è un'animazione che nasce da questo flusso di coscienza di questo io che è Zero Calcare, il quale in questi due episodi che abbiamo visto ricorda un innamoramento enorme per Alice, accaduto lì nel 2001 quando aveva appena 17 anni ed era pronto ad andare a Genova per un'esperienza che avrebbe segnato indelibilmente la sua generazione e non solo la sua. L'amore per Alice, essere bloccato, rimaneva un rapporto dilatato, l'armadillo con la voce di Valerio Mastandrea che gli appare e gli parla, Valerio Mastandrea doveva realizzare da regista il film La profezia dell'armadillo, poi qualcosa è andato storto, anzi più di qualcosa e non l'ha fatto lui il film. In questo caso di nuovo entriamo nel mondo di Zero Calcare che è molto divertente, il ricordo appunto di questa bambina che lui amava e alla quale non riusciva a dire niente, però non bisogna avere fretta, la coscienza appunto all'armadillo che arriva come ovviamente Humphrey Bogart per Woody Allen, in Provo c'è ancora Sam, certamente i punti di contatto tra Woody Allen e Zero Calcare sono tantissimi, c'è un io narrante, c'è un comico sostanzialmente che riflette sull'idiosincresia della sua generazione. Grazie a tutti.